Un abito sobrio da giorno per chi conosce la sartoria e per chi sa indossare gli abiti. Parliamo di un meraviglioso tessuto, una sorta di principe di Galles, anche se non è esattamente tale, in beige, con questo bel quadro, un prodotto di azzurro, di testa di moro e di grigio. L'effetto è molto bello, nel complesso è per i toni del tortora, dell'azzurro, dell'avion. Certamente un abito che indossavo di giorno, d'estate, è certamente straordinario. Abbiamo scelto di abbinare una fodera che richiamasse un pochino la riga, un po' accesa, un po' divertente, e quindi nel complesso la trama del tessuto, la fodera, i cori della cravatta, la camicia, secondo me c'è questo matrimonio ben riuscito. Spero che l'abito e che il video vi siano piaciuti, ci vediamo da dal sarto.